Sono ora con il dottor Daniele Murra, sempre un ricercatore qui del centro Enea di Frascati, il quale che cosa ci farà vedere? Allora qua noi utilizziamo un raggio laser, in particolare un raggio laser di un laser a elioneon, quindi che emette una luce rossa, la utilizziamo per far vedere una caratteristica importante dei materiali trasparenti, come in questo caso il Prexiglass, la caratteristica che noi fisici riassumiamo in un parametro che è chiamato indice di rifrazione. Allora il raggio laser parte da questa sorgente laser, cammina, non lo vediamo perché qua non c'è nulla, siamo in aria quindi non c'è nulla che lo rimanda verso i nostri occhi e nemmeno verso la telecamera, però una volta che entra in questo cubo di Prexiglass questo cubo fa sì che la luce viene diffusa anche verso la telecamera e quindi anche gli spettatori riescono a vedere effettivamente il laser che passa. Ora cosa accade qua dentro? Non accade semplicemente il fatto per cui la luce che inizialmente sta andando in questa linea retta va anche verso la telecamera, accade anche che la velocità della luce cambia, in particolare rallenta, perché questo materiale ha quello che definivo prima indice di rifrazione diverso da uno, in particolare maggiore di uno ed è maggiore quindi di quello dell'aria. Allora il fatto che la luce rallenti diciamo a noi non comporta particolari differenze perché ovviamente non riusciamo a percepirne la velocità, in realtà il fatto che rallenti ha una conseguenza pratica che si osserva se noi la luce invece di farla entrare perpendicolarmente a una faccia di questo parallelepipedo la facciamo entrare con una certa inclinazione. Per farlo vedere sposto il parallelepipedo e lo inclino, quello che accade è che la luce si piega e va verso l'alto, il fascio laser che prima arrivava a una certa altezza adesso si sta alzando. Questo fenomeno viene chiamato rifrazione della luce. Come si può vedere la luce arriva con una certa direzione, poi si porta verso l'alto, cioè sta andando in una direzione completamente diversa, non più orizzontale, ma riprende ad essere orizzontale una volta uscita. Ora questa proprietà, o meglio questo fenomeno della rifrazione, è la base sostanzialmente del funzionamento di tutte le ottiche e di tutte le apparecchiature che funzionano con le ottiche, quindi parliamo di occhiali, parliamo di occhio, parliamo di macchina fotografica, parliamo di telescopio, di cannocchiale e così via. E anche di un oggetto tecnologicamente molto conosciuto ormai che è la fibra ottica. La fibra ottica sostanzialmente è qualcosa fatta di un materiale simile a questo qui, simile alla plastica, può anche essere vetro, può anche essere quarzo, comunque è un materiale trasparente. Cosa avviene nella fibra ottica? La fibra ottica, la luce entra e a un certo punto dovrebbe, come avviene in questo caso, dovrebbe poter uscire dalla faccia. Però, nel caso della fibra ottica, la luce non incontra una interfaccia, cioè una faccia così perpendicolare alla direzione con cui sta andando, ma, ad esempio, prendiamo un modello di fibra ottica, una volta entrata incontrerà la superficie che avrà una certa curvatura. Ora, come abbiamo visto lì, la luce tentare di uscire dalla faccia, ma con un angolo piuttosto elevato. Quando io l'ho piegata, la luce invece di andare in alto si è piegata e è ripresa ad andare orizzontale. Anche in questo caso tenterà di uscire, ma con una inclinazione che cerca di avvicinarsi alla superficie. Ora, se la curvatura non è eccessiva, l'angolo con cui la luce viene rifratta è più elevato della curvatura stessa. Questo vuol dire che noi, in questo modo, abbiamo intrappolato la luce all'interno della fibra. Non solo su questo punto, ma in tutti i punti in cui cercherà di uscire. Cioè, sostanzialmente, vedrà questo oggetto, che è un cilindro pieno, come fosse in realtà uno specchio. Cioè, la luce vede un cilindro fatto di materiale completamente riflettente. Questo lo vediamo poi, praticamente, in questo modo. Una delle estremità della fibra là vicino alla sorgente laser e vedremo la luce uscire. Ecco qua. La vediamo uscire dall'altra estremità senza vedere assolutamente in nessun punto della fibra la luce rossa. Per noi la fibra continua a essere completamente trasparente in ogni suo punto, tranne che è l'interfaccia in cui entra e l'interfaccia in cui esce. Questo vuol dire che, sostanzialmente, tutta l'energia elettromagnetica, la luce è una forma di energia elettromagnetica, che abbiamo introdotto in questo punto della fibra, l'abbiamo ritrovata in questo punto, perché se l'avessimo persa avremmo visto alcuni punti colorati di rosso perché la luce era uscita. Questo è, praticamente, il motivo per cui vengono utilizzate le fibre ottiche nelle telecomunicazioni, perché quando parliamo di telecomunicazioni parliamo sempre di energia elettromagnetica, la luce, ripeto, come dicevo prima, è una forma di energia elettromagnetica, quindi in una fibra ottica, questa è di un paio di metri, ma in una fibra che potrebbe anche essere di 500 metri a un chilometro, tutta l'energia che inviamo all'inizio la ritroviamo alla fine. La dispersione, o meglio la perdita di energia, è molto bassa e quindi il loro utilizzo nelle telecomunicazioni è molto elevato e soprattutto negli ultimi tempi sta avendo un notevole sviluppo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!